Sono passati anni da quando ha lasciato Uomini e Donne dove sedeva al fianco di Tina e Gianni nel ruolo di opinionista ma il programma le è rimasto nel cuore e continua a seguirlo Sono passati anni da quando ha lasciato Uomini e Donne dove sedeva al fianco di Tina e Gianni nel ruolo di opinionista ma il programma le è rimasto nel cuore e continua a seguirlo Ecco che Carina Cascella, attraverso i social ha voluto dire la sua in merito alle ultime notizie salienti relative al dating show Mediaset In particolare, ha voluto dire la sua sul ritorno a Uomini e Donne, in qualità di tronista, di Ida Platano L'oggi imprenditrice nel mondo della ristorazione ha rivelato che poco tempo fa, la Bresciana e il suo allora compagno Alessandro Vicinanza erano stati al matambre, locale che lei gestisce e gli sembravano così carine Cioè, meglio per loro è? Forse sono fatta male io non so a questo punto Per odiamone, un sentimento vero avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere o no? E ha speso due parole anche su Maurizio Laudici, ex Fiamma di Gemma Galgani, uscito dal programma con Elena Di Brino, credo avessero un piano, scrive sui social, e messi alle strette siano staffati prima di fare la figura Grazie a tutti